Tutti i libri del mondo non ti faranno felice, ma ti condurranno in segreto all'interno di te stesso. Lì troverai tutto ciò di cui hai bisogno. Il sole, le stelle, la luna, perché la luce che cerchi dimora già in te. La saggezza che hai cercato a lungo tra i libri splenderà da ogni pagina, perché ora quella saggezza è diventata tua.